Mara Venniette Mara Venniette in vacanza, relax prima di tutti i cui valess Mara Venniette, relax in vacanza, prima di tutti i cui valess Mara Venniette, la zia di Canale 5, si sta godendo un periodo di meritato relax prima di tornare in tv, in veste di giurata a tutti i cui valess, il noto talent show firmato Maria De Filippi Mara si trova in Repubblica Dominicana, precisamente a Santo Domingo, città che le ha catturato il cuore, difatti, la nota conduttrice televisiva, ha acquistato una casa con il marito Nicola Carraro, per potersi godere pienamente quest'angolo di paradiso Lontana, per il momento, dagli impegni professionali, si sta godendo una vacanza di super relax, che documenta con molta frequenza sul suo canale Instagram. Balli, canti, ceni, spiaggia, sono questi gli ingredienti principali del suo divertimento dominicano. Mara Venniette Mara Venniette si mostra come sempre solare, raggiante e piena di entusiasmo. Tu si cui valess, Mara Venniette in vacanza prima del programma. Mara Venniette sta trascorrendo un periodo di meritato relax nella sua casa a Santo Domingo, città che le ha rubato il cuore. Il noto volto di media se pare abbia da poco terminato la registrazione di Tu si sue valess, per lo meno delle prima puntate, che andrà in onda il prossimo autunno, dove vestirà nuovamente il ruolo di giudice. Nel frattempo, le vacanze di Mara stanno procedendo a gonfie vele, durante le ultime giornate ha testimoniato, attraverso il suo canale Instagram, di starsi davvero divertendo, video di giochi ludici sulla spiaggia, di cene con tanto di musica dal vivo, sotto cui è possibile riconoscere l'inconfondibile risata euforica della conduttrice. La Venniette ha anche postato una foto in cui è intenta a far la spesa, scrivendo adoro andare al supermercato Amore della zia testimoniando così il suo entusiasmo anche per le più piccole cose. Una volta che sarà tornata da Santo Domingo, oltre a Tussi Q e Vales, pare che i suoi impegni televisivi non finiranno qui, dovrebbe tornare come opinionista all'isola dei famosi 2018. .